Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 4 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzane e BV1 Variante in direzione di Bologna. Ricordiamo che fino alle 18 è chiuso per lavori di manutenzione il tratto della 1 panoramica, compreso tra l'allacciamento con la direttissima, località Baccheraia e Roncobilaccio, ancora una volta in direzione Nord. Sulla Firenze Mare, code a tratti per traffico tra Prato Ovest e BV111 e Coda di un chilometro per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Qualche problema in Fipili dove troviamo code a tratti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze, in carreggiata opposta code per traffico tra Empoli e San Miniato, coda in uscita a Santa Croce, rallentamenti tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est e coda in uscita a Pisa Nord-Est. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, un viaggio!